Giovanni Allera, presidente del Lions di Rivarolo, questa prima edizione del trofeo Bocce Lions organizzato qui a Rivara direi un successo. Sì, questo è il primo trofeo Bocce, dopo ho chiesto a Giorgio di organizzare questa manifestazione, lui ha risposto con suo papà, con tutta la sua equip delle Bocce, in grande stile come sa fare lui. Devo ringraziare tutti, sia Silvano che Giorgio e tutti i Lions che sono comunque presenti perché abbiamo giocato anche noi Lions, senza pretese, ma abbiamo giocato anche noi. Senti, una manifestazione ovviamente come sempre a carattere di beneficenza, sempre a favore dei giovani come nello stile del tuo anno di presidenza. Sì, quest'anno abbiamo cercato veramente di dare una mano ai giovani in tante maniere e questa manifestazione è una di quelle molto importante dove la raccolta fondi sta andando molto bene grazie, ripeto, a Giorgio, a Bretta e tutti i ragazzi, tutti i Lions che sono qua e tutti i giocatori e quello che si ricaverà si andrà a favore dei ragazzi per tutto il nostro anno, il nostro service principale dei giovani. Chiudiamo con una... hai detto che sei stato giocatore, sei giocatore e come è andata la tua prestazione? Allora, la mia prestazione è andata benissimo, diciamo, perché ho veramente... ho diversamente vinto, diciamo, ho perso. Infatti siamo fuori, oggi pomeriggio giocano quelli che sono bravi.